Gli ultimi cinque scontri tra Rezzo e Ascoli erano finiti in pareggio e così è stato anche stasera. 1-1 al comunale, Pattarello di rigore risponde al vantaggio di Corazza. Truise cambia le carte rispetto a Carpi, si rivedono Del Fabro e Montini dietro, mentre in avanti conferma per Gaddini schierato al fianco di Guccione e Ogunzei. Di Carlo, a rischio panchina, ripone le speranze sul Silipo e Tirelli a sostegno dell'ex Cesena Corazza. Il primo tiro nello specchio dell'Arezzo arriva con Gaddini che ci prova prima da lontano trovando la respinta della difesa, poi da più vicino impegnando Livieri nella prima parata della serata. Tascoli tarda a farsi vedere in avanti ma lo fa pericolosamente. Palla messa fuori dalla difesa Maranto, Bando calcia al volo e trova l'opposizione di Montini. Il pallone diventa buono per Silipo che a botta sicura va di destro, ma Trombini risponde presente ed istinto disinnesca il tiro. La partita è equilibrata e si rivedono anche gli a Maranto. Montini recupera palla sulla destra e con un rimpallo favorevole serve Mauli che torna dal numero due ma Livieri gli esce bene sui piedi e blocca. Ancora Rezzo sulla fine del primo tempo, questa volta con Chiosa che anticipa un avversario e si lancia in avanti. Uno a due sempre con Mauli e destro sul primo palo su cui Livieri si distende e manda in corner. Ad inizio secondo tempo prima Mauli e poi Renzi arrivano dalle parti di Livieri senza impensierirlo troppo, ma è Lascoli che all'improvviso al settantesimo passa in vantaggio. L'ex Maranto Tremolada riceve palla sulla metà campo e vede Corazza in avanti. Lancio perfetto per il 18 che fa balzare il pallone due volte, conta i passi e con un diagonale deciso buca Trombini. Gol di pregevole fattura sia per il lancio che per la conclusione, ma difesa Maranto che sicuramente poteva far qualcosa di più. L'Arezzo non sembra in grado di reagire, ma assai dalla fine Tavernelli in buca per Righetti che viene atterrato in aria da Giappongo. E Zago fischia il rigore. La differenza di martedì sul dischetto va Pattarello, è entrato al sessantesimo, sinistro forte e incrociato su cui Livieri non può arrivare e pareggio a Maranto. Tre golli in stagione per Emiliano Pattarello, tutti dagli 11 metri. Dopo un ultimo brivido su un colpo di testa di Gagliolo, la partita finisce 1-1, risultato giusto per quello che si è visto in campo. Qualcosa non ha funzionato al meglio negli ultimi due match, ma dopo questo trittico di gara a distanza ravvicinata, Troise e i suoi avranno una settimana di tempo per confrontarsi e capirlo, in attesa della trasferta con il Milan Futuro.